Allora, allora, la mamma porta il ventilatorino estivo color arancione con una specie di arancia qua in mezzo Cosa sarà successo? Scopriamolo insieme, naturalmente E ciao ragazzi, ciao a tutti e benvenuti e bentornati, secondo voi dove? Allo show di XIVNX E oggi siamo qui col ventilatorino portatile di mia madre, tanto per rimanere in tema estivo E andiamo a provare a vedere se riusciamo a riparare questo coso qua E mia madre dice che non va più il motore, 100-100 perché non va niente Anche se schiaccio l'interruttore che sta qua dietro, rimane sempre fermo, immobile, non fa niente Ma vediamo un po', se lo attacco al computer adesso vediamo se esplode il computer Anche se esplode questo qua è un problema Però me ne sbatto l'interruttore su uno E appena appena si muove però Eh 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 C'è solo da re-ingrassarlo per bene perché è il grasso che c'è qua dentro Secco da far schifo Me ne sei proprio sicuro Quindi ragazzi mettiamoci al lavoro Apriamo il ventilatorino estivo E la mamma Sì è proprio una roba semplice qua dentro Un semplice motorino Che troviamo in alcune meccaniche di qualche lettore cd Come vi sto facendo vedere questa ottica Allora Allora Bisogna cercare di smontare la ventola E come si smonta? Ah Solo tirando così Bene Allora il motoro L'abbiamo smontato dal supportino Possiamo provare a spruzzare un po' di svito L'unica cosa che possiamo fare senza smembrare tutto Poi ci sono Tipo questi fori qui Uno Due Tre Quattro Cinco Sei Siamo provando a spruzzare un pelino lì dentro Ognuno di questi Ah Madò Eh La lecca è esploso Eee Allora Mamma mia Adesso è un po' esagerato direi Allora sapete che faccio a questo punto? Dopo aver dato 40 kg di svito Non gira lo stesso La meccanica che avevo fatto vedere prima Arriva proprio da questo qui Cannibalizzato Allora si apre Forse si apre Ma Eh infatti si apre Voilà Vai Motorino recuperato E lo andiamo ad attaccare al ventilatore Dì a questo Onnezza Che bel tiro One eternity later Lo sapevo L'ho messo al contrario No 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 Ora va bene Eh Adesso Cazzo va bene Adesso Adesso Gira dove dovrebbe Perfetto Quindi possiamo concludere Dicendo che il nostro Ventilatorino Funziona Ancora Quindi mia madre Adesso sarà molto felice Che in ufficio Avrà un minimo Di aria fresca Se vi è piaciuto il video Vi invito a lasciare un mi piace Di commentare Di condividere Ma soprattutto Qual è Secondo voi La cosa più importante Ma è ovvio Di iscriversi al canale Se avete ancora fatto E attivate anche Le campanelline Che campanelline La campanellina Che sta qua sotto Da qualche parte E ovviamente Potete anche Seguirmi su Instagram Lo show Di ximistratiro Basso official Poi vedremo Dei post Delle stories E Naturalmente Potete anche essere salutati Se volete Potete scrivermi qua sotto Nei commenti Anche su Instagram Nel profilo precedente citato Noi purtroppo Abbiamo già finito qui Questo video molto breve State bene Siete fortunati E ci vediamo Nei prossimi video Ciao